Durante l'attività info-investigativa e controllo economico del territorio, i finanzieri della tenenza di Nereto hanno scoperto a Sant'Egidio alla Vibrata un autocarro carico di oltre 8 kg di rame, per i quali il conducente del mezzo non ha saputo indicare la provenienza, né è stato in grado di esibire il documento che di regola accompagna il trasporto di questo materiale. I militari, dopo aver riscontrato la mancata autorizzazione al prelievo del materiale da un deposito vicino, hanno proseguito gli accertamenti dove è emerso che anche il responsabile dell'attività, in mancanza del previsto registro di carico e scarico rifiuti, non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza del rame. Le fiamme gialle, pertanto, hanno proceduto al sequestro del prezioso materiale, chiamato anche oro rosso, e alla contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria del responsabile, individuato nel titolare di una ditta individuale esercente l'attività di raccolta e commercio ambulante di rottami di ferro e altro materiale, per incauto acquisto e per attività di gestione rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni. Il fenomeno criminale dei furti di rame colpisce società operanti nel settore dei trasporti dell'energia e delle telecomunicazioni e anche aziende elettrotecniche ed elettroniche attive nella produzione e nell'utilizzazione di beni prodotti con l'impiego di questo metallo. Questi furti, oltre a provocare l'interruzione di pubblici servizi essenziali, con ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo, possono avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico.